Salve a tutti, in questo video vediamo come fare in modo che il ragazzo si metta gli occhiali sbagliati su Untitled Cuse Game. Allora, dobbiamo andare qua dalla venditrice, facendo attenzione a non farci beccare, e dobbiamo prendere un paio di occhiali da qua. In questo modo, lei non ci ha visto. A questo punto vanno collocati vicino alla panchina del ragazzo qua. Consiglio esattamente questo punto perché a me ha funzionato benissimo al primo colpo. Quindi li collochiamo qua. In modo che lui poi ci vada incontro. Ora, dacchinati, slacciamogli un laccio, interagendo qua sulla scarpa, in questo modo. Lui si chinerà, noi ci alziamo e gli freghiamo gli occhiali. In questo modo, presi. Ora, li portiamo lontano da qua, qui va bene, e lui incapperà negli altri occhiali. Se non dovesse farlo, riprendeteli e spostateli leggermente fino a che non li trova. Ecco fatto. Spero di essere stato utile, un saluto. Grazie. 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 Grazie.